Sono partite in questa prima batteria Valentina Buccolini che tiene la testa intanto di questa prima semifinale in seguita dall'atleta Angela Tiberto del Bellusco e ancora abbiamo Erika Greci della Fortitudo e Fran Vanuette l'atleta della Nazionale Belga. Sempre Buccolini che conduce e porta l'avversaria al trovato di meno uno. Buccolini e Vanuette le prime due si portano in partita è Melissa Gatti che tiene le remini Gatti e Varani le prime due posizioni di questa semifinale Grazie 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 Grazie.